Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Arriva il virus ad amici e le prossime puntate della fase serale sono a rischio. Lo riporta Giuseppe Candela Sudagospia, uno spazio che da sempre fornisce anticipazioni e retroscena particolarmente attendibili sul mondo della televisione, inclusi i programmi del calibro di Amici di Maria De Filippi. Dopo l'ultima registrazione della puntata che vedremo su Canale 5 stasera, sabato 29 aprile, due concorrenti del programma sono risultati positivi al virus. Questo potrebbe portare allo slittamento delle prossime due puntate. Al momento, da parte della produzione non sono giunte comunicazioni né aggiornamenti sullo stato di salute dei due concorrenti. Non si conosce neanche la loro identità. La puntata odierna, dunque, verrà trasmessa come da programma. A rischio sono le prossime registrazioni. Se in grado di sostenere le rispettive esibizioni, i due concorrenti positivi potrebbero essere chiamati ad esibirsi in uno spazio diverso dallo studio principale, per rispettare l'isolamento. Vedremo cosa succederà, vi terremo aggiornati.